Facciamo il secondo sorriso della mattinata e ci colleghiamo con Sanremo, vai Domenico! Sì, buongiorno Serena, chiaramente noi stiamo seguendo tutte quante le notizie che arrivano, però qui a Sanremo appunto si va avanti, si racconta l'Italia attraverso la musica, tra l'altro siamo onorati, oggi ci sono le prove con i duetti, e siamo onorati di avere il maestro Amedeo Minghi, grazie maestro per essere qui con noi, un breve flash, lei adesso, buongiorno, la saluta a Serena Bortone dallo studio. Ah, buongiorno, perché non ho il ritorno, quindi non la sento. Perché l'abbiamo colta così adesso, maestro, il maestro duetterà questa sera, serata dei duetti con una grande, una grandissima, Rita Pavone. Ecco, e duetterà su una canzone sua che è entrata nei cuori di tutti gli italiani e che racconta un'Italia, 1950, giusto? Eh sì, dovremmo avere le prove, infatti, di questo... Avrete le prove, quindi cominciate presto, maestro. Eh sì, ci siamo fatti scendere dal letto presto. E noi l'abbiamo presa, la libero subito, grazie mille, grazie. Peraltro tu, Domenico, ieri hai intercettato... Dicevamo Serena, noi siamo all'interno di più. Tu hai intercettato ieri qualcuno di molto, molto amato, da tutti gli italiani. Eh sì, proprio lì, perché sta provando, qui si prova, perché quello che noi vediamo la sera fino a notte fonda è una parte, appunto, dello show, ma qui tutto il giorno e anche la notte si va avanti a provare. Noi abbiamo intercettato Fiorello, che ha commentato con noi quello che sta accadendo un po' in tutto il mondo con questa fobia coronavirus. E sentiamo cosa ci ha detto. Fra l'altro lui è uno dei pochi che si sveglia presto al festival e quindi la mattina ci segue anche. Grazie.